Ecco, Ulisse, Massimo Cacciari, intanto perché all'inferno Ulisse? Beh, chiarissimo, la ragione tecnica, come dire, è evidente, no? È detto, Dante qui riprende Virgilio, Ulisse è scelerum inventor, colui che inventa, scopre delitti misfatti, il grande ingannatore, fraudolento, Ulisse, Virgilio già l'aveva caratterizzato così per bocca in particolare di Enea, ma c'era una lunga tradizione romana che appunto vedeva in Ulisse colui che aveva conquistato Troia, Troia, madre di Roma, sacra Iglio e quindi una originaria inimicizia tra lo spirito romano e Enea e Ulisse. Quindi la caratterizzazione negativa della figura di Ulisse, Dante da questo punto di vista è evidente, la riprende da come Ulisse viene dipinto da Virgilio e da Enea. Ma vi è un contrasto metafisico tra appunto Enea e questa è la trama sottesa di questo straordinario canto pieno di enigmi, molti dei quali tuttora, come dire, dibattuti, discussi, no? Alcuni di interesse altrimenti, ma insomma adesso non andiamo al noccio della questione. La trama sottesa, la contrapposizione metafisica che regge tutto l'impianto della commedia tra Enea e Ulisse, entrambi navigatori, entrambi argonauti in qualche modo, no? Entrambi destinati ad avventure straordinarie, ma anche Dante stesso, perché Dante, abbiamo detto, si dipinge come argonauta, anche lui tenta acque che mai sono state percorse e ribadisce questo come suo valore, come sua virtù. Il voler conoscere queste oceani che nessuno ha percorso è per Dante espressione della sua virtù. Quindi qui ci troviamo di fronte a figure, quella di Dante, l'Enea che è insieme a Paolo il suo faro, l'Enea virgiliano che è insieme a Paolo, e Ulisse, che appaiono ad una prima vista superficiale, appunto figure in qualche modo contaminabili. E non c'è dubbio che Dante, il discorso che abbiamo appena fatto prima, Dante, virgolette, ama questa figura, è attratto da questa figura, a parte il fatto che nessun poeta potrebbe scrivere versi di tale potenza se non amasse il suo soggetto, no? È intuitivo, diciamo, anche da uno studente liceale, no? Ma è all'inferno, per l'appunto. Allora, partiamo, scelerum inventor. Ma qual è l'invenzione dell'inganno qui? Che lo porta veramente dentro. Che interessa Dante? Il cavallo di Troia? Poca cosa. Perché non gli fa raccontare una storia del suo inganno? Se questo fosse l'attenzione di Dante, gli avrebbe fatto raccontare la storia del suo inganno. Certo, invece gli fa raccontare la storia del Dengosari. E invece gli fa raccontare una storia strana, semi-inventata da Dante. Perché in Omero vi è il racconto, nella famosa Necchia, nel viaggio che Ulisse rende alle ombre, nell'Odissea, vi è il racconto, una profezia di Tiresia che riguarda Ulisse. Da lì bisogna partire. Ulisse profetizza Tiresia che tornerà in patria, ma non si potrà fermare per sempre in patria. Perché ad un certo punto il Dio lo costringerà a riprendere il mare e si fermerà soltanto là dove incontrerà una popolazione che, alla vista di remi, non capiscono che cose i remi sono. Perché non hanno mai visto il mare. Un viaggio per mare ad una terra che ignora il mare. Quindi quest'idea che Ulisse non muore sul suo letto, ma è travolto da questa nostalgia dell'andare, nostalgia del lontano, come dicevano i provenzali, una nostalgia dell'uan, un amour dell'uan. E' antica. Ma però qui Dante la rimescola. Perché uno evidentemente non finisce il viaggio di Ulisse, questo secondo grande viaggio di Ulisse non finisce con quel popolo straordinario di cui parlava Omero. Finisce sulla montagna del procatorio, su questo dovremmo tornare. Lì fa naufragio. Ma poi Ulisse, e questo è un punto che molte volte non viene sottolineato a sufficienza. Quale? Non torna a casa. Proprio non torna a casa. Dove è scritto che torna a casa? Quindi parte da Circe e mica è scritto che torna a casa. Dice, no, non torna a casa. Cioè ha cambiato la storia di Ulisse. Ha cambiato. Ha cambiato completamente la storia di Ulisse. Cioè si potrebbe anche dire torna a casa e rifarte, ma non c'è scritto da nessuna parte. C'è scritto che lui parte da Circe e non che parte da Itaca per un secondo viaggio. No, no, l'Ulisse è quello che fa. Lui non torna a casa. E qui è il fondamento di tutta la storia. Allora, cioè Ulisse non torna perché preferisce conoscere. Cioè la nostalgia dell'andare, la volontà di conoscere, lo strappa a che cosa? E qui è il punto fondamentale. Lo strappa, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito, debito, amor, lo qual dovea Penelope far rieta. Vincer poter dentro a me, l'ardore. Attenzione, non leggiamolo così a orecchio, poi quando vedremo il canto di Paolo Francesco in una prossima puntata. Tutti questi termini di Dante vanno interpretati tecnicamente. Tecnicamente. Questo ardore noi lo dobbiamo intendere come furore. Proprio alla Bruno, alla Giordano Bruno. E' furor, l'ardore, che ebbia di venir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Torniamo a Ulisse, allora, Massimo Cacciari. Allora, il suo desiderio lo porta a andare e la sua è colpa perché? Perché Ulisse... Ulisse va solo, solo. Questo è il punto fondamentale. E dicevano i medievali, chi va solo va col diavolo. Quindi essere solo... E' solo, solo. Non ha pietas, non è pius. Pius, cioè rivolto al padre, rivolto... Non è pius, non è solo. Via dalla casa. Non è stato destinato a questo viaggio da nessuna chiamata. E' solo la sua curiositas. L'ardore della sua curiositas. E' solo... E' la conoscenza senza amore. Ecco, nessuna chiamata lo fa controfigura del profeta. E' la... E' la conoscenza senza amore. E' il grande averroismo. E' il grande averroismo. Una conoscenza perfettamente autonoma, che vuole diventare esperta, esperta. I sensi, vedi l'espressione, a questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi. Questa è rivelatrice. Io la intendo tecnicamente. Si rivolge alla sua truppa, che nel frattempo è invecchiata. Da questo viaggio estenuante, era invecchiata. Era diventata. Diventando costantemente esperta di vizi, di valori, eccetera, eccetera, si invecchiava. Attenzione. Cioè, non è che questa fatica del conoscere, questa febbre del concetto fine a se stessa, invecchia, invecchia. Fa morire. Fa morire. E si rivolge a loro, dicendo che cosa? O frati, dissi, che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente. Tramonto, al tramonto, no? A questa tanto piccola vigilia. E qua è tecnico, Dante. Non dice, perché non dice della nostra vita qualcosa? Dei nostri sensi. Cioè, per Ulisse, Sonino è solo attraverso la dimensione sensibile, l'esperienza sensibile, a linea del mondo esperto, l'esperienza sensibile che si conosce. È il campione di un perfetto chiuso ateologico averroismo. Ecco, ed è qui che scatta allora l'identificazione di Dante con Ulisse, cioè l'autonomia del conoscere. Ma questo è il grande pericolo di Dante. Qui Dante esalta, esalta in questa figura eroica, nell'eroismo fino al sacrificio di questo, tra virgolette, scienziato puro. L'eroismo fino al sacrificio, fino al naufragio. Esalta quella che era la figura del massimo pericolo che egli stesso correva da giovane, insieme a Cavalcanti. Cavalcanti era sicuramente un grande esponente dell'averroismo fiorentino. A Cavalcanti. Cioè l'autonomia del conoscere come... Del conoscere che significa concettualizzare un'esperienza che si fa attraverso i sensi. Beh, che poi l'autonomia del conoscere è appunto da un lato il peccato di Ubris, cioè io conosco, no? E dall'altro è anche il peccato di Adamo che vuole farsi non solo creatura, quindi non solo creatura dipendente, ma si erge a solo conoscitore. Solo conoscitore. Vuole... Cioè, conoscenza senza amore. Una conoscenza che ritiene di poter essere sola. E Dante, sì, è vero, cioè si... E allora il suo inganno... Gli dice molto bene la tentazione. E allora il suo inganno, in che cosa consiste? Il suo inganno consiste in questo. Il suo inganno consiste proprio qui. Con questa orazione piccola li spinge al cammino. L'inganna. L'inganna. Inganna, cioè inganna i suoi, i suoi seguaci, di poter giungere al fine attraverso un conoscere che si svolge nella dimensione pura e semplice dell'esperienza sensibile. Quindi è l'illusione del conoscere. Cioè, inganna. Che l'inganna. Gli dice, dice, oh, stiamo a un passo dal fine, non vorrete mica fermarvi ora, via, coraggio. E gli dà questa grande forza, no, per cui questi vecchi improvvisamente si piegano sui remi e fanno volare di nuovo la nave. E l'inganna. Perché non possono raggiungere il fine, naufragano. Questo è l'inganno. Quindi non Ulisse che fa i trucchetti, ma appunto l'illude che si possa conoscere. Questo è l'inganno. L'illude che appunto si possa giungere al fine, unico fine, attraverso una conoscenza. Il che non vuol dire affatto sminuire l'aristotelismo. Sminuire appunto un intelletto che si educa e matura anche attraverso i sensi. Nile est in intellectu quod prius non furit in senso. Non finire affatto. Ma capire che non può essere questo l'unico fine. E che perseguire questa conoscenza, questa esperienza, non può farci dimenticare dolcezza di figlio, pietà del padre, debito, amor. Se no diventa inganno. Diventa inganno. Però, appunto, Dante che appunto capisce i limiti della conoscenza, ma nello stesso tempo è tentato, però anche, tu dicevi, ecco, la conoscenza senza amore, però anche, come dire, ogni vera conoscenza ha un rischio di morte, no? Perché ogni vera conoscenza deve toccare un limite, perché non ci si può fermare prima. Dante non mette assolutamente in discussione. Cioè, quando Dante mette in bocca ad Ulisse la famosissima terzina, che è una parafrasi di Aristotele, no? Considerate la vostra semenza. Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, per essere virtuosi, viri, viri, mai dimenticarsi l'etimologia. Soprattutto voi donne, mai dimenticarsi l'etimologia di virtus. Va bene. Pensate dieci volte prima di dire virtù, perché vuol dire la quintessenza del vir. Ci penseremo bene. E non esiste muliertus in latino. Esiste juventus, esiste virtus, ma non c'è muliertus. E vabbè, adesso non voglio dire banalmente in un linguaggio maschile, ma comunque... E' un linguaggio totalmente maschile, come vedi, totalmente maschile. Sì, ma scritto dagli uomini. E' una lingua scritta dagli uomini che dovete imparare ad usare, quindi sono cavoli due. Ma credo ci sia anche una lingua scritta dalle donne. Fatti non forse a vivere come brutti, ma per seguire virtute e conoscenze. E' praticamente una parafrasi aristotelica. Ecco, qui è doppio il discorso. Questo elemento, in quanto tale, Dante potrebbe benissimo sottoscriverlo. E' impossibile mandare all'inferno uno che dice questo. Tu devi collocarlo in questo contesto. Devi collocarlo in questo contesto. Cioè, una riduzione della nostra semenza, una riduzione della nostra semenza alla dimensione puramente naturalistica dell'esperienza sensibile, piccola vigilia, dei nostri sensi. Che significa? Quando i nostri sensi non sentiranno più, voi siete morti. E quindi cosa volete sprecare questa piccola vigilia? Dei nostri sensi. Del mondo esperto di che cosa? Del mondo esperto. Del mondo. Il mondo dei suoi vizi, del suo valore. Questo, questa forma di conoscenza, inganni, se la fai considerare, se la consideri, se le levi all'unico fine. Questo dice Dante. Inganni. Sei uno scelerum inventor. Cioè, prepari i naufragi. Apparecchi i naufragi. Quindi invece la conoscenza che bisogna perseguire e praticare... Tu devi andare... E la conoscenza non separata dall'amore... Tu devi andare come Enea. Vai, sì, anche tu. Anch'io Dante vado. Ma non solo. Chiamato. Provocato ad andare. Magari contro voglia come Enea. In vitus. Ma ho una chiamata a cui rispondo. Cioè, sono responsabile di qualcosa. Cos'è chiarissimo nel discorso... La cura di cui dicevi... Cos'è chiarissimo in Ulisse? L'irresponsabilità. L'irresponsabilità. Inganna i suoi amici. Il gioco. È responsabile. È responsabile nei confronti della famiglia. È responsabile nei confronti dei suoi amici. Li porta al naufragio. Quindi tu invece nel tuo andare... Devi essere sempre responsabile. Devi sempre rispondere... A una dimensione terrena. La famiglia. La città. Cioè, è una dimensione ultraterrena. Sovrannaturale. I due fini di cui parlavamo nell'altra traduzione. Ecco. E pregare. Questo è un elemento che non... Che qui non c'è, ma che... Ma che c'è in Enea. Come? Enea prega. Enea prega. Ulisse non prega. Come non prega Farinata, l'altro. Che non a caso viene fuori nell'eresiarca, dove viene fuori la figura di Cavalcanti. Tra gli eresiarchi. L'eresia letteralmente significa che cosa? Aireo, verbo greco. Separare. Ecco. Gli eresiarchi sono quelli... Nella quintessenza, l'eresia si caratterizza come una posizione che separa conoscere da amare. E quindi nessuna critica del conoscere, ma di questa separazione. E ma è qui Dante veramente profeta, perché questo canto... Dante poi però... Questo canto che cos'è? Questo canto prefigura un destino. Io sono convinto che questo canto prefigura un destino. Cioè ci mette di fronte, davvero qui non c'è bisogno di attualizzare nulla, ci mette di fronte al problema. Al problema. Cosa significa conoscere, laddove il conoscere diventa un'attività puramente mondana e autoreferenziale? Cosa significa? Cosa comporta? Dove conduce? E' molto interessante, a questo proposito, che tra le migliaia di figure della commedia non compaia una di cui allora tutti parlavano. Cioè? A questo proposito, indovina. A questo proposito, di viaggi, avventure. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. E perché non compare, secondo te? Perché non compare Marco Polo? Perché non compare Marco Polo? Quando, appunto, Dante è pieno di queste immagini di navigazioni, di mari, di oceani non tentati, e c'è Ulisse. Perché il Marco Polo era sulla bocca di tutti. È un best seller. E perché non lo nomina? Probabilmente perché, appunto, era, dove era Ulisse? Chi era Marco Polo? Beh, però, Dante gli poteva trovare una collocazione anche a Marco Polo. Cioè, era Dante, 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 è come Dante fosse di fronte a un bivio. Chi sono questi nuovi navigatori? Chi sono questi nuovi, questi che prefigurano, appunto, il sempre oltre, che comincia? Anche sotto segno messianico, escatologico, nel Quattrocento, Cristoforo Colombo e poi via. Chi sono? Qui è prefigurato tutto questo. Chi sono? Sono profeti? Sono Ulisse? Chi sono? Queste figure che stanno invadendo la scena europea. Dopo la grande epoca, dopo l'epopea delle crociate, eccetera, stanno invadendo la scena europea. Questa disseminazione dello spirito europeo. Sotto che segno avviene la disseminazione dello spirito europeo? Sotto il segno di Enea o sotto il segno di Ulisse? Certissimamente sotto il segno di Ulisse, ma non c'è il minimo dubbio. Quindi, appunto, senza preghiera, senza cura, senza amore, senza fine e senza chiamata. Certo.